Poi faremo noi, ed è l'altra comunicazione che io voglio dare, oltre a quella che riguarda il progetto di legge sulla compensazione, quella che riguarda la richiesta di accelerare i tempi di recepimento della direttiva europea, perché queste due sono state fin qui le notizie che vi ho dato, una terza notizia, cioè noi attiveremo un numero a livello regionale, nelle 20 regioni, in modo tale che gli imprenditori in sofferenza o in difficoltà abbiano un contatto diretto con il popolo della libertà e con i parlamentari, e chiederemo a tutti i nostri parlamentari, ai deputati, ai senatori, ai parlamentari europei, di mettersi a disposizione del partito nella interlocuzione con gli imprenditori che hanno una difficoltà di relazione con le istituzioni, quindi questo è un po' il assunto di quel che dovevo e volevo dirvi ed è la ragione per la quale vi ho chiamato, quindi vi ringrazio e mi sottopongo alle vostre domande con la garbata preghiera di non trascurare l'oggetto della conferenza stampa, cioè mi farebbe piacere continuare a parlare di ciò di cui ho parlato perché è questo a mio avviso il modo migliore per essere concretamente vicino al tema del lavoro e alle imprese in difficoltà. Grazie, vi ringrazio anche per la pertinenza al tema, siete stati oltre le mie più rosee aspettative.